HG detergente forte per laminato è un detergente efficace che rimuove sporco ostinato, grasso e film protettivi in maniera sicura e rapida da tutti i tipi di laminato. Diluire un litro di prodotto in mezzo secchio da 5 litri di acqua tiepida, quindi trattare il pavimento con un panno o un mocio ben strizzati, immergendoli spesso nella soluzione creata. Non sciacquare o rimuovere il detergente e lasciare asciugare il pavimento da solo. Per rimuovere HG pellicola protettivo lucidante per laminato, questo prodotto deve essere applicato non diluito. Se utilizzato diluito, un litro di prodotto è sufficiente per 25-50 metri quadri, non diluito per 10-15 metri quadri.